Nonno, mi posso sedere il suo gatto? Sì, certo! Ehi, sorrino, ma si rompe? No, non si rompe! Rinnegato, anche se voi crescete ogni giorno di più, avranno sempre la forza per sostenervi! Anzi, sapete una cosa? Cosa, nonno? Preparatevi, oggi faremo un viaggio insieme! Dove? Venite con me, lo scoprirete! Benvenuti a bordo della macchina del tempo! Partiremo insieme per un'avventura emozionante! Un viaggio nel tempo per scoprire la storia di Rino e Gatto! Negli anni 40, il signor Italo Tonelli lavora come produttore di mobili nella sua azienda. La sua energia è concentrata nel dare il miglior servizio al cliente, come ad esempio essere puntuale nelle consegne. Oh, buongiorno, signor Italo! All'inizio degli anni 50, l'attività si converte dalla produzione di mobili al commercio di legnami e compensati. È negli anni 60 che il signor Italo crea un macchinario per la lavorazione di un particolare prodotto alveolare in cartoncino, che prenderà il nome di Aston. Servono quindi nuovi spazi. Sorgono un nuovo stabilimento e un nuovo magazzino. Siamo negli anni 80, la produzione prosegue. Il signor Italo mette anima e corpo nel suo lavoro. Il mercato è sempre più ricettivo e l'azienda Tonelli si impegna costantemente nel controllo della qualità dei propri prodotti, diventando quindi fornitore di semi lavorati per le industrie del mobile. Continui investimenti in nuovi macchinari, come la Calandra, per nobilitare i pannelli grezzi, permettono un'ulteriore affermazione della Tonelli sul mercato. Nel 2000 viene inaugurato il nuovo stabilimento di San Marino. Qui viene prodotto il nido d'ape, utilizzato per tamburare porte e mobili. Nel 2000 viene un'ulteriore affermazione della Tonelli. Nel 2000 viene un'ulteriore affermazione della Tonelli. In questo stabilimento viene prodotto il tamburato, la cui principale caratteristica è la leggerezza, ma anche la resistenza. In più è ecologico, perché utilizza minori quantità di materie prime ed è anche leggero, quindi permette volumi di carico maggiori, con ridotti costi di trasporto e minore emissione di CO2. Il tamburato del futuro Italton è un pannello tamburato di alto spessore, leggero, resistente, che permette grande versatilità nel design del mobile. Bene, il nostro viaggio è finito, ma tenetevi forte per l'ultima emozione. Eccoci nel futuro. E qui i vostri sogni potranno diventare realtà. Ci vediamo nella Tonelli del futuro.